Allarme e sicurezza. La criminalità ringhia, la gente ha paura. A Pove del Grappa però la tecnologia si allea alle forze dell'ordine e nasce un progetto senza precedenti, con telecamere di sicurezza ad alta precisione, capaci di leggere le targhe delle automobili che entrano ed escono dal paese. Occhi elettronici infallibili. Vogliamo far sì che chi arriva a Pove possa essere identificato, targa, per sapere se sono macchine regolari ma soprattutto permettono alle forze dell'ordine che saranno in rete di capire quando entra qualche macchina sospetta. Il piano di videosorveglianza viene finanziato dalla Regione Veneto. 50.000 euro per la centrale di polizia locale del distretto di Bassano e Valbrenta e 80.000 euro per l'informatizzazione dei vigili che grazie a speciali palmari potranno accedere alle singole telecamere. A questi 130.000 euro se ne aggiungono altri 60.000 da parte dell'Unione Montana e dei singoli comuni della Valbrenta che investono sulla realizzazione di 11 varchi con 14 telecamere che entro l'estate verranno puntate sulle strade da Cismon a Pove del Grappa. Le segnalazioni verranno trasmesse dalla polizia locale al commissariato e ai carabinieri. Il comune di Pove poi con uno sforzo ulteriore di 30.000 euro installerà altre telecamere nei varchi principali del paese. La cittadinanza ha bisogno di sicurezza, vuole sentirsi sicura, anche il comune deve mettere la sua parte.